Eccomi qua amici e amiche del simposio della consapevolezza per mandarvi una mail gustosissima e succosissima Mi raccomando tenetela ben 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 stretta, salvatela da qualche parte perché è pienissima di link Tutti importantissimi perché sono quelli delle registrazioni, delle serate Per cui tenetevela ben stretta perché sono tutti messi in ordine, li trovate tutti i vostri datori preferiti E quindi vi consiglio proprio di tenerla da parte Ma non solo perché vi ho mandato anche tutti i link di tutti i siti, tutti i regali che hanno dato i nostri datori E anche delle offerte speciali, tra l'altro ci sono delle offerte speciali a scadenza che vi ho segnalato Per cui mi raccomando se avevate intenzione di usufruire di qualche sconto o di acquistare qualche programma O qualche evento con gli sconti promossi proprio per voi del simposio dai nostri datori Mi raccomando date subito un'occhiata e guardate quelli che sono di vostro interesse Vi ricordo assolutamente oggi scade il fantastico lancio del programma di Francesca Forcella Cillo Per cui andate se eravate appena interessati che avete pensato di prenderlo Andate a prenderlo al volo perché scade proprio oggi lo sconto Poi abbiamo Anna Chiara che in 9 avrà il suo tocco della voce quantica Per cui se siete ancora in tempo a iscrivervi Abbiamo che il 15 di giugno scade la promozione sul DVD Shadaio di Patricia Per cui anche lì avete il link per andare ad acquistarlo al volo Poi abbiamo Pier Carlo che anche lui ha fatto il prezzo super speciale per gli iscritti al simposio Compreso, anzi super prezzo se andate in due Per cui andate subito a controllare anche quel link Di nuovo anche il corso Empower Your Voice Now di Ciro Imparato Anche su quello c'erano più di 140 euro di sconto Andate perché ragazzi non è da tutti poter fare degli sconti del genere Siete dei privilegiati proprio perché siete iscritti al simposio E poi c'era anche il corso di Sara e Stefano Che faranno insieme della tecnica della risata emozionale Anche lì dategli un'occhiata perché sono tutti super super prezzi agevolatissimi Che dirvi d'altro che ho anche tante altre novità Non posso mica dirvele tutte in una mail sola Già una mail lunghissima per cui non voglio sovraccaricarvi Per cui questa però vi dico salvatevela, mettetevela da parte perché è importantissima Se stai guardando questo video e non sei ancora iscritto al simposio Sappi che nonostante il simposio sia finito Potrai sempre avere tutte le registrazioni a tua disposizione Per cui tranquillamente vai sul sito www.simposiodellaconsapevolezza.com E riceverai tutte le registrazioni Per il materiale o per quello che ti interessa di più Quindi magari se c'è qualche materiale gratuito che non hai ricevuto Tranquillamente scrivimi Io ti mando tutto quello che ti posso mandare Oltre che tanto tanto amore Bene, alla prossima comunicazione E godetevela ragazzi, godetevela Un bacio